musica 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 io avevo messo la e avevo pensato che forse tu preferivi la radice tantissimo e c'è molto di più di quello che sembrava la tua tavola è bellissimo secondo me tutti gli sporsi di vedere la radice la tavola è spettacolare le ricette sono azzeccatissime bianco mangiare, quello da conosco quale vi hai visto con tutte le tue cimentine e tutto ero anche cattedrale tu la tua lettera la tua tavola tutto è libero, viene molto bene viene molto bene vengamo anche a cucinare si si, si tratta appunto di una specie di cibo vegetale eventualmente si può grattugiare un po' di pane con un po' di olio un po' di sale e un po' di pepe io ho iniziato con una lettera ho messo la R e ho voluto riprendere quel dettaglio del del tuo topolino molto carino, molto bellissimo lavoro a presto a presto a presto